Tu non temerai la freccia che vola di giorno. Salmo 91, versetto 5 Non avere paura La promessa che il Signore rivolge a tutti coloro che hanno riposto in Lui la propria fiducia, rivela la protezione di Dio per i credenti che confidano e sperano in Lui. I motivi di preoccupazione possono essere tanti e nessuno è risparmiato. Possiamo iniziare la giornata con la preoccupazione, la paura o fin anche il terrore di essere infilzati da qualche freccia che qualcuno scoccherà contro di noi. In questo caso, per fede, aggrappiamoci alla promessa che il Signore ci rivolge attraverso il salmista. Non temiamo le frecce del nemico, delle difficoltà, dei pericoli, perché per certo Dio ci proteggerà. Il Signore non si dimenticherà di noi, non ci trascurerà, non ci abbandonerà. Perché fedele alle sue promesse. Non temiamo di nessuno e di niente, perché Dio ci ama e si prenderà cura di noi. Anche oggi, certamente, voleranno tante frecce, ma noi non temeremo perché siamo nelle mani del Signore, che ci protegge e con Lui siamo veramente al sicuro. Anche oggi, certamente, voleranno tante frecce,